Metti insieme sul palco un'icona dello sport italiano, il pallavolista Andrea Zorzi e l'attrice Beatrice Visibelli. Affida la regia riminese Nicola Zavaglio, otterrai una miscela esplosiva. La leggenda del pallavolista volante, spettacolo della compagnia Teatro d'Imbarco, in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita, farà tappa a Castel Sismondo Estate grazie alla società sportiva Riviera Volley Rimini. Sul palco Zorro e la Visibelli daranno vita ad una moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano. Un pallone sgualcito diventa così il volante che il padre impugnava durante molti chilometri percorsi nella sua vita d'autista. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti. Il teatro porta in scena lo sport e lo sport porta in scena la vita, con un crescendo di momenti a tratti ironici e simpatici, a tratti malinconici e persino drammatici. Attraverso la biografia di un campione che ha segnato la nostra storia sportiva riscopriamo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici, con l'idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si può arrivare da nessuna parte. Penso che lo spettacolo sia davvero una buona opportunità per raccontare una storia universale. È chiaro, è una specie di multilivello, funziona con chi conosce la pallavolo, che riconosce i piccoli dettagli, funziona con chi sa qualcosa di sport, funziona con chi non sa nulla di sport, vedo una storia raccontata di un ragazzo che, insistendo e lavorando, con un gruppo di amici fa delle grandi imprese. In questo senso sì, il teatro è universale e mi piace molto perché penso sia un bel esempio di sport e cultura che dialogano con molta fluidità. Questa forse è la soddisfazione più grande che ho avuto finora. Grazie. 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 Grazie.